Raga, parliamone, Massimiliano Cagliazzo lascia davvero mare fuori, adesso vi dico esattamente quello che sta succedendo. Anche nell'ultimo video che ho fatto ho visto tante opinioni contrastanti su questa storia di Carmine. Molti si appellano alle parole di Ivan Silvestrini, che cosa ha detto? Alla domanda la scena finale di Carmine rappresenta un addio definitivo, Ivan Silvestrini ha risposto, io non so cosa succederà, l'ho girata senza saperlo e quindi l'ho considerata come tale. E aggiunge, lecito sperare che non sia così, cioè che non sia un addio definitivo e che un giorno succeda ciò che voi aspettate, magari fuori campo oltre le immagini. Quindi a me queste parole sembrano in realtà molto chiare. Per questo vi dico che Massimiliano Cagliazzo sono certo che non ci sarà nella prossima stagione. Sicuramente tornerà magari proprio per il finale della serie o anche prima. Per come è stato scritto e per come sono state girate le scene finali, al momento è prevista una pausa per il povero Carmine. Poi io se mi sbaglio meglio, anche perché Marefuori è Carmine, ma non credo che sia così. Chi altro lascia e chi invece torna? Qui sul profilo andate subito a seguirmi, vi ho lasciato l'altro video dove ci sono chi lascia, chi torna eccetera eccetera. Vi devo fare la mega teoria, lo sapete. Ovviamente se andate su WhatsApp trovate il mio canale verificato dove ci sono un sacco di esclusive interviste, video saluti, tutto su Marefuori. Andate a seguirmi.